Ieri sera anche via dei naviganti a Torre del Greco è collegata alla pubblica illuminazione cittadina, un intervento a cura dell'assessorato ai servizi tecnologici del comune che arriva dopo le numerose richieste dei residenti della zona. Sono soddisfatto, ha commentato il sindaco Giovanni Palomba, della solerzia e dell'impegno con cui i nostri uffici sono riusciti a rendere e garantire un servizio importante alla comunità cittadina. Non poteva restare al buio un'arteria centrale della città. Un intervento che arriva dopo l'accensione della bretella di collegamento di via Alcide dei Gasperi nelle scorse settimane. Stiamo progressivamente provvedendo ad illuminare tutte le zone della città, anche quelle più remote e periferiche. Sono le parole dell'assessore a ramo Giuseppe Speranza. Riteniamo infatti essere una priorità assicurare l'incolumità e la sicurezza ai nostri cittadini attraverso l'illuminazione pubblica, quale elemento di prevenzione ad incidenti atti vandalici ed eventuali fenomeni di micro e macro criminalità.